15 secondi al via, mostrati in questo istante piloti 5 secondi, internazionale d'Italia con il terzo di sinistra giù il caccello di parte con Lupino, Lupino Sodi, Lupino Sodi, Lupino Sodi Bernardini con Sever, qualche problema per Jeremy Jeremy Sever per Bernardini in ombra con stamattina, Botticelli terzo, terzo, i Botticelli anzi secondo supera Bernardini, attenzione al Jump City, attenzione allo spettacolare Jump City che vede il Lupo poi Monticelli, Bernardini, Chiodi, Sever e poi c'è Tonkov, il russo di Como subito ad inseguire, ma i nostri che fanno la natura, l'attacco, l'attacco tentativo di tornare sotto per Bernardini, ma è scatenato